Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in Albania dopo quasi 24 ore di viaggio in totale tra pause, strada e tutto Li avevo lasciati in Bosnia Ragazzi adesso siamo in Bosnia, non ci siamo mai stati in questo paese la nostra prima volta C'è successa un'altra situazione spiacevole A un certo punto un poliziotto ci ha fermato e non è stato l'unico neanche durante tutta la sera Ci stati fermati varie volte ovviamente vedendo la targa italiana e straniera Questo poliziotto con una sorta di ricatto ci ha detto di dargli 50 euro Pensare che succedano queste cose ancora adesso è allucinante E questa cosa di chiedere soldi da parte della polizia la trovo alquanto schicosa Davvero non concepisco come sia una cosa accettata da molti e che continui ad essere così in tantissimi posti Ecco questa è stata la mia reazione a caldo sulla nottata che avevamo appena passato Ma facciamo un piccolo passo indietro Avevamo appena fatto il viaggio più lungo della nostra vita in auto 1500 km quasi passando per 6 paesi Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro e infine Albania E prima di partire avevamo già deciso di suddividere il viaggio in due parti Quindi di fare 700 km fino al confine tra Croazia e Bosnia Per poi proseguire il giorno dopo verso l'Albania Quindi avevo guidato sino quasi al confine tra Croazia e Bosnia Nel video precedente avevo spiegato che c'è un video Nel quale dovete proprio scegliere se passare per la Bosnia oppure proseguire dritti verso Ragusa Escludere quindi la Bosnia e arrivare persino in Montenegro Mi ero fermato in questo autogrill che è l'ultimo in tutti e due i sensi di direzione in autostrada E avevamo pensato di dormire lì Questo autogrill ha sia dei parcheggi di fronte illuminati quindi dove c'è la stazione di rifornimento E anche dietro dove c'è quest'area a parcheggi molto grande dove molte persone sostano soprattutto camion Prima ancora di dormire stavamo cenando, avevamo portati tutto il cibo da casa Infatti avevamo fatto neanche tante soste fino a quel punto Erano più o meno le 9 di sera E vedendo che dovevamo dormire avevamo portati anche gli oscuranti per i vetri dell'auto Nel parcheggio c'era anche altra gente che stava sostando ma non così tanta E proprio mentre stavo mangiando il panino quindi avevo la portiera aperta Vedo un'auto che arrivando con una certa velocità si affianca proprio dietro la nostra Era una BMW un po' vecchia con i vetri oscurati Questa macchina è stata ferma dietro di noi per 30 secondi Vedendo che non vedevo nessuno mi sentivo un po' osservato Ho pensato magari qualcuno che deve chiedere qualche informazione o indicazioni Ad un certo punto scende questo ragazzo sui 30 anni che si avvicina a me parlandomi in croato Al che io gli dico non capisco parlami inglese E lui mi risponde sì sì anch'io parlo inglese sono un poliziotto E mi fa vedere il distintivo e una tessera abbastanza sbiadita della polizia con la sua foto Io ho dato semplicemente un'occhiata mi puntava il flash del telefono in faccia E mi fa no no esci fuori se non ci credi guarda guarda bene Vabbè sono uscito ho guardato poi non riesco a capire se fosse vero o meno Però ovviamente ho pensato fosse un poliziotto in borghese a questo punto E ci ha chiesto subito i documenti quindi ho pensato che ci volesse semplicemente controllare E ha cominciato a farmi una serie di domande Perché siete qui, tu vendi sostanze o alcol, avete armi dietro addirittura E niente vi ho spiegato che stiamo andando in Albania Ovviamente non abbiamo niente di tutto quello che stai dicendo E semplicemente mi sono fermato a mangiare un panino e a riposarmi in vista del proseguimento Queste domande me le ha fatte più di una volta e io continuavo a dire no 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 E a un certo punto mi fa adesso controllo l'auto Quindi punta la torcia un po' ovunque Mi fa ma queste sono armi Cioè toccava tipo lo zaino dove avevo i vestiti Oppure i sacchetti del cibo Ci avevamo portati dietro Gli ho detto no no abbiamo solo vestiti, cibo E continuo a frugare con le mani A un certo punto gli faccio e abbiamo anche la fotocamera qua davanti Ho pensato che magari potrebbe la far cadere E appena ho detto così Che tra l'altro era spenta Non gli ho detto che forse è accesa Solo abbiamo questa fotocamera qui davanti Si è dileguato in mezzo secondo Cioè era tutto via a far domande pronto a continuare il discorso A un certo punto appena ho detto così Fa have a good night Cioè ha dato i documenti ed è corso via Sprecciato via con l'auto Infatti non abbiamo capito bene cosa fosse successo Mi è sembrata molto strana Io continuo a pensare che magari fosse un poliziotto in borghese Almeno spero Però il suo fare molto ansioso Anche le domande in quel modo Magari non era molto fluente in inglese Potrebbe essere anche quello Potrebbe essere anche un nuovo poliziotto giovane Con poca esperienza Però mi facevano pensare Non mi facevo trasparire che ero nervoso Ma mi faceva molto strano questo controllo Si era proprio fermato davanti a noi C'era anche altra gente L'ultimo della fila Il parcheggio E aveva fermato noi I più isolati da tutti Sta di fatto che appena ho detto a fotocamera Si è dileguato E non ho capito il perché Aveva detto controllo l'auto Adesso interamente Invece ha controllato soltanto la portiera del guidatore Nulla Appena ho detto così E' scappato Prima di ricevere e vedere i soliti commenti Che ci dicono Eh ma siete imbranati Eh ma non sapete neanche Che ci siano i poliziotti in borghese Ed è normale che vi controllino Non stiamo dicendo quello Ripetendo Poteva essere benissimo un poliziotto in borghese Ma sta di fatto che una domandina sui suoi atteggiamenti Su come si è posto Come soprattutto si è allontanato Vedendo la fotocamera La farebbe chiunque E a quel punto Non avevo neanche finito il panino Non avevo sonno Non ero neanche così tanto stanco Dopo quella pausa di mezz'ora Abbiamo deciso di proseguire Vedendo che ormai era ancora prestino Abbiamo detto vai proseguiamo Andiamo verso la Bosnia E poi massimo ci riposiamo Non so In Montenegro Pensavamo la strada fosse molto corta Eravamo già lì al Bivio Quindi pochi chilometri più avanti Passiamo la dogana bosniaca Che tra l'altro Avremmo sentito Potesse dare non so Qualche storie o problemi Avremmo sentito storie Almeno che dicevano così In realtà sono stati gentilissimi Controllo velocissimo Erano anche simpatici Parlavano pure l'italiano Andando avanti C'era subito un ingresso in autostrada In Bosnia l'autostrada A differenza di altri paesi Si paga proprio all'ingresso Quindi non è che prendi un biglietto E paghi quando esci Si paga proprio all'entrata Abbiamo pagato 5 euro Fa ridere perché avevamo proprio chiesto All'ultimo casello della Croazia Se fosse a pagamento Anche in Bosnia Ci aveva risposto di no Entriamo in autostrada Ma l'autostrada Dopo neanche un chilometro Era chiusa C'erano proprio i cartelli Di chiusura e deviazione Quindi verso le strade normali Di paese della Bosnia E quindi ci siamo detti Ma perché abbiamo pagato l'autostrada? Semplicemente abbiamo fatto Un chilometro 5 euro Vabbè Pedaggio più alto mai visto Quindi deviamo Per questa strada Che state vedendo adesso Entrando in alcune città Ma a un certo punto Vediamo soltanto tutto buio E delle strade Praticamente di montagna Una strada che Non era quella migliore Per arrivare fino in Albania Tutto un percorso Non tanto ripido Ma comunque In salita In strade molto buie Non si vedeva niente Non si sapeva neanche Dove fossimo Avevamo le mappe offline Quindi se perdevamo Magari localizzazione Di maps Ci saremmo persi Perché non si vedeva niente E proprio quando cominciano Un po' di lampioni Qualche casetta In una salita Alla fine di questa salita Anche ridere dirlo Ci si butta Letteralmente Si è tuffato Come se fosse Buffon Prime Questo poliziotto Praticamente sul cofano Perché non si vedeva Non è che aveva Una torcia O qualcosa E ci ferma Qui è ancora in salita In chiodo E accosto Mi ho pensato Ci fa un controllo Andiamo via Il poliziotto Più o meno sulla cinquantina Abbasso il finestrino Lo saluto Li parlo in inglese Ovviamente lui Mi parla in bosniaco E quindi ho detto Andiamo già male Ho capito che ci ha chiesto I documenti Non so come ho fatto A capire qualche parola Però vabbè Era abbastanza ovvio Cosa richiedesse E gli diamo i documenti Gli diamo i passaporti Ma lui non interessa Cioè Li guarda proprio disinteressato E mi fa capire Di dargli la patente Io proprio stupido In quel momento Magari anche stanco Prendo il portafoglio Senza nessun problema Lo apro Così vi può anche vedere L'interno Perché è qui di fianco a me Tiro fuori la patente E di solito Non sono così ingenuo Perché lascio sempre La patente In un'altra parte Ma avevo messo la patente Nello stesso punto Dove avevo tutti i contanti E sapete che Se dovete viaggiare In paesi Nei Balcani Come l'Albania Non tutti accettano Le carte O il banco Ma quindi in questo caso I soldi che ci avevano portati dietro Per le spese E erano la maggior parte In contanti In quel momento Avevamo quindi Circa 300 euro Lui quindi Prende la patente Ma non la controlla neanche Comincia a guardare Avevo tirato giù Finestino anche dietro Che Claudia Stava dormendo dietro Nell'auto Comunque seduta E in quel momento Vedo che Con gli occhi Cerca di trovare qualcosa Che non andasse Che si vedeva proprio I documenti Non li ha neanche calcolati Probabilmente Si vede che l'inglese Che sa lui Le parole che sa lui Sono quelle che gli convengono Perché comincia a dire Subito Belt Belt Indicando Claudia dietro Quindi praticamente Stava dicendo Che lei Non avesse indossato La cintura In quel momento E comincia a parlare In bosniaco L'unica cosa che ho capito È stata Bosnia 50 euro Belt Perché il resto Non l'abbia capito Mi ha detto Ah quindi Ci vuoi fare una multa Comincia a dire Belt 50 euro Tutto il tempo Insisteva 50 euro Sembrava proprio Che ci stesse Mendicando soldi Vabbè magari Non sapeva la lingua Ma come lo diceva Era un po' in quel senso Sembrava che ci volesse Fare una multa Io faccio Ma quindi Obbligatorio Perché siamo appena Passati dalla dogana Lei non l'aveva Ci hanno controllato Più poliziotti Non hanno detto niente È obbligatorio Adesso vabbè La mettiamo E poi lasciarci andare Per protesi Visto che non ci hanno detto Neanche prima Nulla Lui Insisteva No No 50 euro 50 euro Questo suo fare è molto serio Io ho detto Qua non ci capiamo Lui tira fuori il suo telefono Lui prima chiede Albanski Pensato Intendesse Albania E gli faccio Sì stiamo andando in Albania Fa No no Albanski Indicando Claudia Che faccio Sì Albanese Mi fa anche un po' ridere Perché uno parlava Una lingua diversa Dall'altro Quindi lui fa Albanski Va verso la sua auto E quindi va a prendere Il suo cellulare Col traduttore Comincia a digitare In bosniaco Traducendo in albanese Quindi scrive La cintura In bosnia sono 50 euro Unica cosa che aveva capito Lui la riscrive Vabbè Claudia quindi scrive In albanese Ci sembra un po' esagerato 50 euro Però vabbè Facci questa multa Così poi possiamo andare E proseguire il nostro viaggio Già eravamo stanchi Era notte E volevamo continuare A arrivare almeno Il Montenegro Lui fa Sì 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 Dammi 50 euro Dammi 50 euro Ho pensato Vabbè Gli do i 50 euro Gli do i 50 euro Gli do Quanto mai Pensando che lui Andasse indietro A scrivere la multa Lui Incredibile Con una nonchalance Mai vista Prende i 50 euro E se li mette in tasca Velocissimamente E lì ho capito Basta Ci sta fregando Questo si fa adesso Una bella serata Con i nostri 50 euro Vedendo che se li mette in tasca Gli ho fatto il segno così E gli ho detto Vabbè a fare questa multa Lui ci guarda così Cominciamo a borfottare In bosniaco Lo so bene Se non capiamo Lo fa apposta Non abbiamo capito nulla Gli faccio Per favore usa il telefono Usa il traduttore Il traduttore Senza troppi giudici di parole Scrive O lasciate a me i 50 euro Così Oppure venite con me in caserma Adesso E stiamo lì di notte Così domani Gli facciamo avere questa multa Gli sbottiamo ovviamente Pensiamo Ma che senso ha sta cosa C'è nel senso Se devi farci la multa Ce la fai adesso Perché non scrivi la multa Nel tempo Siamo andati lì Insiste Dicevo No ti ho dato i 50 euro Ma adesso mi fai la multa qui In questo momento Se davvero è una multa Lui continuava No 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 Così 50 euro O a me Oppure venite di là Adesso in caserma Fino chissà quando Gli faccio Ma perché non puoi fare la multa qua Perché in caserma sì Perché qua io non posso farla Ma in caserma invece possiamo Gli faccio Dov'è questa caserma Mi indica la strada Buia che avevamo appena fatto Senza spiegarmi dove Continuiamo così Faccio no Non esiste che prendi 50 euro Almeno vai a prendere la cosa Stiamo qui E ci fai avere questa multa Non esiste così Se no mi ridai i soldi E mi mandi la multa All'indirizzo Lui tutto il tempo Faceva no con la testa Tutto serio Nel frattempo si irritava E dopo aver praticamente Quasi discusso Per mezz'ora 40 minuti Lui era irremovibile Su questa cosa Voleva solo i 50 euro L'avevano capito ormai Tra l'altro I nostri documenti Hanno chiusi la sua auto Lui quando è andato A prendere il telefono Lui è andato a mettere I nostri documenti Sulla sua auto Quindi non ci dava neanche I documenti Nel senso La mia patente I due passaporti A un certo punto Vedendo che lui si stava irritando Anche io mi stavo Innervosendo parecchio Ma non era proprio il caso Vedendo che comunque Hai un poliziotto Che è armato E può fare benissimo Abuso di potere Come la sta facendo Perché è corrotto di suo Claudio scrive Sempre sul suo telefono Comunichavamo così ormai Ma quindi se ti lasciamo Questi 50 euro Ci lasci andare Invece se vogliamo una multa Dobbiamo venire con te in caserma Fino chissà quando E lui fa Sì esattamente Se mi lasciate 50 euro Potete andare Claudio mi fa il gesto Quindi vabbè Lascia questi 50 euro Andiamo perché Non ne possiamo più Cioè questo è inutile Ci vuole corrompere Ad ogni costo E vuole che Lasciamo sti po**** I soldi Quindi vabbè questa cosa Non ci andava giù per niente Però non sapevamo Che uscire da quella situazione Assurda Poi con una persona davanti Si vedevano bene Le sue intenzioni Ma addirittura Continuava a parlare in bosniaco Anche se aveva preso Questo traduttore Traduttore l'aveva solo preso Per farci capire Che o è così o cos'ha Semplicemente Perché poi continuava A parlarci in bosniaco Un po' per intimidirci Si vedeva Che anche quando gli dicevamo Non ti capiamo We don't understand you Dicando il telefono Lui cominciava a sbuffare A diventare ancora più nervoso Non ci andava proprio giù Questa cosa Ma abbiamo detto Va bene Ti lasciamo questi 50 euro Ci fai andare Per cortesirci dai documenti Tra l'altro Era la nostra prima volta in bosniaco Eravamo tutti contenti Anche se non avevamo visto nulla Di passare per un altro paese Per la prima volta E ci è andata malissimo La troviamo una cosa schifosa Che non dovrebbe accadere Più in nessun posto al mondo Ti vedono sempre memes Dei paesi balcanici Su questa cosa Della polizia corrotta Che magari In un certo modo Non direttamente Ti chiede dei soldi Chiede una piccola mancia Ma mai ho visto Un atteggiamento del genere In cui lui ti chiede Proprio i soldi Direttamente Senza problemi Cioè proprio ti fa capire O così o cos'ha Cioè Con una sorta di ricatto Perché è stato un ricatto Bello e buono Poi a posteriore Abbiamo fatto anche qualche ricerca Su questa cosa E eravamo curiosi Di vedere Che ci è successo solo a noi Ci sarà successo anche a altre persone Vedendo il modus operandi Del poliziotto Mi sembrava molto Esperto in questa cosa Sapeva esattamente Solo quelle parole in inglese E in effetti E poi è capitato anche Ad altri viaggiatori Addirittura Sui social abbiamo visto gente A cui sono stati chiesti soldi Alla frontiera In questo modo Su Google Ad esempio Come vedete qua Nelle notizie Il capo della polizia In Bosnia È stato arrestato Per corruzione Quindi questa deve essere Una piaga Che va avanti da tempo In questo paese Magari avremmo potuto reagire In un altro modo Dicendo Abbiamo registrato tutto Con le fotocamere Anche se non era vero Quando succedono quelle situazioni Magari è meglio registrare Ma purtroppo Eravamo stanchi È stato un momento inaspettato Non pensi mai che un poliziotto Ti si lanci letteralmente Sull'auto Soprattutto che cerchi Di corromperti E quindi ci ha trovato Un po' impreparati Questa cosa Ormai è passata Spero che il karma Faccia il suo A questo poliziotto Infatti Quando ci ha ridato I documenti Era tutto contento Era tutto sorridente Ha pensato Adesso vado a farmi La birra E due salsicce Era proprio che Da nervoso E irritato È passato a felicissimo Ci hanno controllato Tranquillamente Siamo andati dritti Eravamo molto nervosi Molto irritati Infatti non riusciamo più Neanche a prendere sonno Per dirvi Quindi fermarci da qualche parte Poi in Montenegro Non ci sono le autostrade C'è una che è in costruzione Da chissà quando Ma non riescono A terminarla E proprio in Montenegro Ancora Veniamo fermati Dalla polizia Stavolta Li vediamo da lontano Con delle torce Ci fanno segno Con la paletta Di fermarci Anche lì In una super strada Più o meno Ma niente Ci hanno fatto un controllo Tranquilissimo Ci hanno detto Andate in Albania Parlavano in italiano Il poliziotto Erano in due Stavolta Mi ha detto Aveva andato in Albania Perfetto Andate pure ragazzi A Juventus Juventus L'idea che era un tifoso Da Juventus Ci ha chiesto Ma c'è un albanese in macchina Almeno perché ha visto Il mio passaporto italiano Quello di Claudio Non l'aveva ancora controllato Mi ha detto Sì sì certo Dietro Claudio Lei è albanese E lì era tutto contento Poi basta Questo è stato l'ultimo controllo Quindi in totale Ci hanno controllato Tre volte A parte le frontiere Che c'è in Bosnia Che in Montenegro Che in Albania Le dogane Che ovvio Di controlli Ma i controlli così Improvvisi Sono stati in Croazia Da quel poliziotto Fake polizio Dico io Ma magari è un poliziotto In borghese Questo fuoriclasse Corrotto Della Bosnia E poi in Montenegro Finché poi siamo arrivati In Albania Tranquillamente Noi ovviamente Non dovevamo passare Di notte Per questi paesi Secondo me Perché avendo la targa italiana Si è un po' preso di mira Ovviamente Quando hai una targa estera In certi posti È meglio andare con un profilo Stanno sempre a controllare Anche di notte Quindi se ti vedono passare Ci sono poche macchie Fermeranno sicuramente te Poi in Albania In due settimane Che abbiamo girato con l'auto La polizia in Albania È ovunque Controlla dappertutto L'altra volta Avevamo preso due multe Con la macchina noleggiata E anche fermati più volte Ma stavolta In due settimane Nessuno ci ha fermato Nessuno ci ha controllato E nessuno ci ha multato Sono cose che possono capitare Ma non è detto Che capiti per forza D'amanti dei viaggi Questa cosa Non ci farà precludere Un giorno di andare Magari in Bosnia A visitare Alcuni di questi posti Che ci sono Anche perché Non c'entra nulla Questo episodio Con tutto il paese intero Purtroppo queste sono realtà Che ci sono in tanti paesi Non fanno ovviamente Una bella pubblicità Vedo molto spesso Che quando capita qualcosa Di negativo O ti scrivono nei commenti In generale Adesso non voglio più Andare in questo posto Ma non è così che funziona La vita è piena di imprevisti Piena di queste cose Non c'è solo il bello C'è anche il brutto Bisogna reagire diversamente Quindi io ce l'ho Con il poliziotto E non con i bosniacinser E a voi invece Avete mai capitato In qualche paese Un episodio del genere Noi siamo stati Fino adesso In 28 paesi È la prima volta Che ci ricattano In questo modo Ma magari voi Condividetelo nei commenti Avete avuto episodi del genere Com'è andata Come ve la siete cavata E soprattutto In quale paese Di certo poi Al ritorno Abbiamo evitato la Bosnia Questa volta Vedendo che ci passavamo Ancora di sera Siamo passati Dal Montenegro E abbiamo fatto l'altra strada Quindi passando Col traghetto Che costa solo 5 euro E ti evita 100 km di strada E eviti proprio totalmente La Bosnia Abbiamo visto anche Nei vostri commenti Che tanti fanno questa strada Per andare in Albania Nulla Questo è tutto Ci tenevo a raccontarvi Questo episodio Che magari può essere utile Anche per altri viaggiatori Per capire di stare sempre in allerta Quando si viaggia Soprattutto con l'auto Grazie per il vostro sostegno Nei prossimi giorni Usciranno altri video in Albania Stavolta abbiamo visitato Altri posti Anche nel nord del paese E ci vediamo presto